Appassionati di videogame, oggi nell'angolo App Store parliamo di un grande classico, Bardus Gate. Così torniamo indietro di un sacco di tempo. Si tratta di un gioco basato su regole e ambientazioni di Dangerous and Dragons. Seguiremo le vicende del protetto mago di Gorion. Sai Sammo, questo è un gioco che per via della sua trama è in grado di affascinare gli appassionati del genere ancora oggi. Bravissima Giorgia, hai detto tutto per oggi. Parliamo di Bardus Gate 2 Enhanced Edition, disponibile su PC ma soprattutto su iPad. Ecco la nostra video recensione. Bardus Gate 2 Enhanced Edition è finalmente arrivato su iPad. Il gioco è universalmente conosciuto come il migliore esponente occidentale del genere RPG. Una progressione estremamente tattica e un battle system che ancora fanno scuola premiando la riflessione del giocatore non possono non soddisfare chi ha già giocato in passato al capolavoro di BioWare, così come le nuove leve cresciute nell'era dei tablet. Interfaccia migliorata e decisamente più leggibile non compensano però la mancanza di un vero e proprio tutorial, utile soprattutto per chi non è dentro le regole di Dungeon and Dragons. Buona anche l'implementazione delle funzioni touch, sebbene con qualche piccola incertezza e ottime le implementazioni narrative, come ad esempio l'espansione Throne of Ball, inclusa nel pacchetto. Un classico che non deve mancare nella vostra collezione iPad. Grazie. Grazie.